Musica Love is in the air Everywhere I look around Love is in the air Every sight and every sound Good evening, and we're happy to be back in Milano Sono contento di essere tornato a Milano Always a pleasure to be here È sempre un piacere essere qui Vedo faccia nuove, anche questo è positivo L'argomento topico di questa sera è la relazione e il rapporto tra l'astrologia e la relazione È quello che vi aspettate, vero? L'amore è un argomento di cui tutti nel mondo parlano E non solo in astrologia È la questione forse più discussa nel mondo E questa sera impareremo come analizzarlo da un punto di vista diverso E con consapevolezze diverse E impareremo a combinare i segni E ognuno di noi ha questa combinazione di tutti i segni Quindi in ogni uno di noi c'è questa rappresentazione di tutti i segni Quindi impareremo a utilizzare, come usare l'argomento affessione dell'amore in ogni segno E quindi andremo a gruppi Il gruppo di segno del fuoco Conoscete i quattro gruppi dell'astrologia? Conoscete i quattro gruppi dell'astrologia? Ok, abbiamo il fuoco 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 Ok, great So what are When we start with fire What are the signs that are in the group of fires? Areus 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 Very good Areus So I can go back home You can do everything That's good So when you hear fire Group of fire What's the first word that comes to your mind? Quindi qual'è la prima parola che vi viene in mente quando sentite parlare di segni di fuoco? Very good Passion, yes, exactly We have passion When you hear fire It's always passion Quando sentiamo parlare di fuoco È sempre abbinata la passione Passion The fire Love Challenges Fire sights I segni di fuoco amano le sfide They want passion They want war Vogliono passione Vogliono calore They are very givy E sono molto generosi Very moving Molto attenti Sempre Condividono sempre So we'll go We'll take one of each sign of the fire group Prendiamo E prenderemo ognuno dei segni del gruppo del fuoco And we'll see how they react in relationship with love And we'll see their characteristics E vedremo come reagiscono le relazioni nell'amore e vedremo le loro caratteristiche Primo segno Ariete Ariete è segno di fuoco But we know in Kabbalah We learn that we have the soul And we have the body Nella Kabbalah però sappiamo Impariamo che abbiamo l'anima e il corpo So it's the same with the signs Lo stesso vale con i segni Ariete è fuoco dall'esterno Ma è acqua dall'interno So it's water or fire Quindi è acqua su fuoco Chi è a dieta stasera? She is Ok, we have two So Aries are very sensitive from inside Quindi gli Aries sono molto sensibili dall'interno Super sensitive Ma non lo dimostrano Hanno molto entusiasmo Sono i bambini dell'ordodiaco Sono i primi segni dell'ordodiaco E hanno sempre questo schermo mentale del gioco Hanno bisogno di molto tempo per maturare Sono curiosi e vogliono imparare tutto Quindi come reagiscono gli Arieti in una relazione? E prima di trattare questo argomento voglio chiarire qual è il significato di relazione Quando dico relazione possiamo applicare questo concetto a ogni livello Quindi può essere una relazione d'amore O una relazione tra persone Il nostro capo, i nostri amici Ogni tipo di relazione La voce stasera è l'amore La parte più importante per l'Ariete è la conquista Non trae piacere se non sente La sensazione che deve complicare qualcosa La sfida Le persone da Arieti hanno molto affetto Amano essere amati E quindi dobbiamo dare loro molta energia Molta attenzione Molto amore E a volte non realizzano che una relazione ha bisogno di investimento E a volte non realizzano che una relazione ha bisogno di investimento Per la parte del fuoco È sempre io, io, io Conoscendo queste caratteristiche sull'Ariete No, ma non mi ha detto 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 È un bellissimo segno Sono dei condottieri L'Ariete è il primo segno dell'Otodiaco Quindi è un segno che conosce Non rimangono bloccati nelle situazioni Vogliono sempre procedere ad andare avanti A volte troppo velocemente Ma vogliono sempre andare avanti E tra i loro vantaggi naturalmente In Aries abbiamo la festa di Pasqua E qual è il significato della Pasqua E la libertà dai legami, dai vincoli E naturalmente gli Arieti amano la libertà Quindi per stare con un Ariete Per stare con un Ariete non dobbiamo trattenerlo Non dobbiamo chiuderlo in una confezione Il mese dell'Ariete è il mese di Nissan Il mese dei miracoli Quindi in poche parole avete una visione In generale di quelle che sono le caratteristiche dell'Ariete Ogni segno che tratteremo questa sera Il proposito, lo scopo non è quello di giudicare le persone Perché ognuno di noi ha un po' di Ariete dentro di noi E ognuno di noi ha anche queste caratteristiche Naturalmente queste caratteristiche sono più concentrate O qualche altro segno di cui parleremo Ma lo scopo è quello di capire come trattare con queste persone Secondo segno del fuoco è il leone Il secondo segno del fuoco è il leone E il pianeta che governa il leone è il sole Il sole in tutto il suo splendore Il leone entra nel cuore di tutti È l'energia È l'amore È l'amore È il fuoco È il fuoco È il fuoco È la passione che brucia È qualcosa che devono attraversare È qualcosa che devono attraversare Non fanno le cose a metà Nell'astrologia convenzionale Dice che le leone sono sfortunati nell'amore Non fanno sfortunati E sono molto complessi in questo aspetto Come nel modo in cui pensano, parlano, reagiscono Le persone che le leone sono molto insicure nell'amore Cercano di esprimersi Cercano di essere migliori Ma hanno molte insicure E quindi come trattiamo con loro in una relazione? Come il sole Come il sole che è l'unico E che sente che bisogna dare a tutti E veramente il leone sa come dare Continuano a dare in modo incondizionato Ma non sanno come ricevere E qui è dove c'è il blocco nelle relazioni La relazione ha bisogno di scadio Dobbiamo dare e dobbiamo ricevere E quando continui a dare e non ricevi In qualche modo crei un blocco La persona del leone non sa Non chiederà mai aiuto Possono trovarsi in grande difficoltà Possono avere bisogno di un grande aiuto Ma non chiederanno mai aiuto La lezione grande per il leone è quella di guardare dentro se stesso E ricordati che ognuno di noi ha parte del leone dentro E ognuno di noi ha queste caratteristiche anche E ognuno di noi ha queste caratteristiche anche Ok Aries è un foglio di foglio, certo? Sì? Sì? I mean il sagittario è un foglio di foglio Sì? Ma è un foglio di foglio È acqua È acqua È acqua È aria al suo interno È per questo motivo che il sagittario non può essere preso Qualsiasi cosa ti faccia È impossibile prendere un foglio Quasi impossibile Giove è il pianeta che regola e che governa il sagittario È per questo che sono molto generosi Giove è uno dei planeti più grandi nello Zodiac È grande, è benedizione, è abbondanza È così che sono i sagittari Sono persone molto intellettuali Non dimenticate che sono aria all'interno Quindi lavorano molto con la testa Sono senza paura Non hanno paura di nulla Potete metterli in una sfida e la supereranno Dategli sfide Da quelle più piccole a quelle più importanti Troveranno il modo Quindi sapete ora come conquistare un sagittario Non mettetelo in scatola Non dategli delle leone Non ditegli che cosa deve fare Date loro una sfida Sì Ma dovresti come conquistare un leone E infatti E infatti E infatti Non dite come si può conquistare un leone E infatti Allora abbiamo parlato di un leone Leo Leone hanno bisogno di amore I leoni Cina per un leone Dagli a un leone Dagli a un leone Dagli a un leone Abbracci Basta Prendi un pregata per Leo Degli a lui che è il migliore Ditegli che è il migliore Ma non è possibile dare loro un consiglio È difficile È difficile Sì Dice Che tanto Che ti dongi le Cercate per loro Poi le Poi queste per leone Bisogna per il sagittario il te ha un problema ovviamente è subito lì il secondo dopo l'insegnante del sagittario nell'astrologia cabalistica è il segno che ha più difficoltà a prendere gli impegni non amano prendersi degli impegni una lunga relazione per i sagittari impiega molto sforzo non dico che non possono però hanno bisogno di molto lavoro sono molto claustrofobici quindi prestare con un sagittario per lungo tempo dovete viaggiare molto dovete spostarvi cambiare coloro del teatro cambiare le stile cambiare le stile ogni anno o due dovete rinnovarvi e allora avranno la sensazione di rinunciare tutto da casa e questo è il segreto per stare con un sagittario tutta la vita tutto il tempo cambiare cambiare la rinunciare della casa ci piacerebbe farlo cambiare tutto il guardarobo cambiare lo spiglio cambiare il paese tutto ciò che si può cambiare cambiato date loro la sensazione di rinunciare da capo una nuova apertura il sagittario ama la caccia nella relazione quindi dategli la sensazione di rinunciare da capo fino a quando vi otterranno quindi quando iniziate una relazione con un sagittario se volete aumentare il suo desiderio non rinunciare da capo non concedete da prima volta non è che un basso la prima volta niente e lasciate che lo desiderino e poi vedrete il desiderio crescere ma non aspettate troppo altrimenti si annoia io ho trovato il desiderio nell'amore è il segno più instabile all'interno dei segni di rinunciare e sono tremendamente onesti mi buttano in faccia sempre quello che pensano e a volte è tanto che è appropriato ma non prendetela personalmente perché è così come sono non lo fanno col proposito di ferire come uno scorpione o qualche altro segno scusate per gli scorpioni ma è così come sono lo devono dire e così che vanno avanti nella vita il problema con il sagittario è un vantaggio e uno svantaggio quando nella vita sono nel loro percorso e vogliono acquisire un obiettivo fanno tutto e qualsiasi cosa per acquisire questo obiettivo e non importa quanto tempo impiegheranno non lasceranno cadere fino a quando non avranno raggiunto lo scopo ma il problema è che quando hanno acquisito questo obiettivo questo obiettivo è fatto ora poi tornano a 0 e ricominciano in order to stay there and to move on higher perché possono rimanere a quel livello e procedere poi più in alto quindi dicono ok ho compito questo con un altro obiettivo e poi in alto è come se al piano o terra costruissero fino al ventesimo piano e poi ho raggiunto il ventesimo piano al posto di stare lì e partire poi a costruire fino al parentesimo dicono ho raggiunto 20 torniamo a 0 e ripartiamo questo è sagittario quindi per questo che è importante cambiare ogni due anni quindi per questo che è importante cambiare cambiare ogni due anni colori, modi, paesi perché hanno bisogno di cambiare ma allo stesso modo anche tempo però dobbiamo aiutarli a stare al livello che hanno raggiunto per poi partire da lì e dare più in alto quindi capito i segni del fuoco avete domande per i segni del fuoco? chiaro? quindi la conclusione per il gruppo dei segni del fuoco tutti i segni del fuoco devono lavorare sullo ego il fuoco rappresenta l'ego a livelli diversi il fuoco dà calore riscalda i cuori ma troppo fuoco può distruggere quindi dobbiamo trovare l'equilibrio e ascoltare gli altri i segni del fuoco non sanno chiedere aiuto soprattutto il leone e questa è la piccola conclusione per i segni del fuoco siamo andati siamo andati quindi quali sono i segni del fuoco? quali sono i segni del fuoco? quali sono i segni del fuoco? non ci 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 sono i segni del fuoco? perché la luce è nascosta perché la luce è nascosta non vuol dire che non ci sia luce la luce è nascosta e dalla camera sappiamo che quando c'è molta negatività c'è anche molta luce quindi dobbiamo lavorare più duramente per rivelare questa luce il toro è regolato da venere il pianeta dell'amore durante il mese del toro abbiamo la festa di Laqba Omer che è l'anniversario di morti di Rabbi Shimon Ba Yochai che è l'autore dell'Ottoar che è una delle anime più grandi che questo universo ha potuto accettare la maggior parte delle persone del toro dall'esterno sembra fredda ma sono molto sensuali molto sanno amare hanno come un vulcano all'interno è come un vulcano incapsulato nel ghiaccio è un segno di terra molto ben piantato il toro starebbe in una relazione per sempre anche se questa relazione è orribile si starebbe sempre, non si sposterebbe da lì è consistenza c'è un aspetto positivo in questo perché quando sei con un toro sei sicuro che il toro è lì e che sta costruendo qualcosa le persone del toro pensano sempre che domani andrà meglio sempre, in ogni aspetto anche se la relazione è negativa a volte anche orribile ho avuto una coppia che è venuta da me per una casa e uno delle due era del toro e il marito era toro e la moglie era del toro e la moglie fisicamente picchiava il marito e erano sposate più di 50 anni e io gli chiedevo perché sta in questa relazione quale è stata la risposta domani andrà meglio per 15 anni ha detto a se stesso domani andrà meglio per 15 anni ha detto a se stesso domani andrà meglio e questo è tipico del toro per il toro è normale pensare così sono molto terra in questo senso sono molto connessi fisicamente se siete nella relazione con il toro è importante toccare, amano toccare la parte fisica è venere, hanno bisogno di questo ma mancano del desiderio di cambiare e a volte nei casi estremi sono autodistruttivi hanno bisogno di usare il fuoco che ha dentro molto raramente un toro si incavano ma quando ci arrivano scappate scappate perché è un vulcano e non lasceranno passare nessuno è molto molto raro ma quando lo fanno ma quando lo fanno il toro non ama uscire il toro è il signo del zodiac che ha bisogno di apparire perfetto più di qualsiasi altro signo del zodiac anche quando vanno al supermercato ci vanno con la borsa di Chanel per forza essere perfetti questa è l'essenza del toro regolato da venere regolato da venere si amano, amano loro stessi devono apparire impeccabili tutto ciò che fanno è fatto bene il comfort di volte è cambiare un toro portatolo nel mio ristorante col cibo con gli abiti legni con tutte le cose materiali possibili dimenticate la spiritualità in questo momento poi potete parlare di spiritualità prima deve essere bello e la camera migliore della vostra casa per un toro qual è la stanza migliore? con i profumi, i trucchi eccetera eccetera il toro ha anche degli aspetti negativi dal momento che non vogliono spostarsi dalla comfort sono pronti per accontentarsi anche del meno nelle relazioni in tutto e è un peccato perché hanno un potenziale molto grande perché non vogliono spostarsi perché vogliono stare in un'altra comfort quindi possono essere pronti non tutti ma possono essere pronti per accontentarsi anche del meno di quanto spetterebbe loro dobbiamo in una relazione far capire loro la parte di fuoco che c'è dentro di loro e naturalmente dopo qualche anno diventano noiosi quindi vedete che un sagittario e un toro non stiamo insieme è un miracolo che stiamo insieme non dico che sia impossibile ma è un miracolo e il toro che non vuole cambiare del tempo e il toro che non vuole cambiare del tempo ma a volte è positivo perché si influenzano l'un l'altro ok Virgo next time Virgine from the earth chi è Virgo? che è Virgine? you see? è un'ambra non si è Virgo ok ruler the ruler of Virgo Mercury the planet Mercury sono governati dal pianeta Mercurio so Virgo è un segno di terra con aria all'interno so it's air of earth aria dal fondo e anche se sono dei segni di terra sono veloci pensano velocemente il pianeta Mercurio è regola che governa anche i gerenni qui sono più influenzati dall'aria nel mese della Virgine c'è un grande cabalista il Baal Shemto è uno dei più grandi cabalisti del 1500 18th century del 18th century del 18th century yes if you hear Michael Berg's stories always he refers to the Baal Shemto most of the time Michael Berg con la sua storia molto spesso si riferisce al Baal Shemto Virgo è come Mercury hanno due lati possono essere molto complicate non capire nulla di loro o possono essere molto semplici è come una chance o sono così o sono così sono persone molto esigenti molto molto esigenti molto esigenti e quando vogliono una cosa la vogliono tenere e sono partner molto stabili potete avere fiducia di loro sono persone salte sono persone che amano imparare che hanno un buon senso 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 l'aspetto negativo della Vergine come il Mercurio sono le parole è ciò che scelta dalla loro bocca e hanno preso la tendenza di essere giudicati con le loro parole e possono distruggere con le loro parole perché sono molto attenti molto intelligenti e vanno diretti al punto e possono ferire una persona quindi le persone della Vergine che devono essere molto attenti a parlare male quindi le persone della Vergine che devono essere molto attenti a parlare male tutte le persone della Vergine hanno proprio questa tendenza a parlare male a volte e dall'altro lato possono essere molto diplomatici molto gentili e sanno gestire le situazioni più difficili ma non saprete mai a quale aspetto li connettete con una Vergine penso che anche loro stessi non sappiano quale aspetto una delle caratteristiche della Vergine hanno una bassa tolleranza non hanno appartenza e soprattutto per le persone stupide non hanno per nulla tolleranza guardano le persone dall'alto ma hanno un'autostima molto bassa ma hanno un'autostima molto bassa e per quanto all'esterno possono sembrare intelligenti, decisi eccetera dare il loro amore non dobbiamo cadere nel loro giudizio dobbiamo complimentarci sempre e questo è il modo per addolcire una Vergine non dal punto di vista dell'ego ma dal punto di vista dell'ego ma dal punto di vista dell'ego dite io sento dite io sento non dite io penso perché naturalmente la Vergine pensa sempre ma non sente perché quando continuiamo a dire io sento perché quando continuiamo a dire è come se programmassimo e li spingessimo a sentire con una Vergine dovete essere delicati da un'altra e da un'altra e non lasciarli parlare anche per loro anche per loro ok terzo signo Capricorn chi è Capricorn? chi è Capricorn? tu hai visto? oggi abbiamo pezzi coppie ok Capricorn signo di terra ma è l'acqua dell'acqua è l'acqua all'interno quindi ovviamente Capricorn è molto sensibile è l'acqua all'interno ma non lo rivolto perché sono terra all'esterno e Capricorn è Saturno è governato al pianeta Saturno quindi Saturno è regola è legge è legge è una cornice è regola fondamenta you don't go out of Saturn just like that è difficile uscire dal pianeta Saturno così semplicemente effettivamente the planet Capricorn sorry the planet Saturn we explain in astrology they have the frozen eyes the ring eyes around Saturn right? in astrologia spieghiamo che il pianeta Saturno ha un anello di ghiaccio tutto il giorno it's water yes but it's frozen water è acqua ma è acqua ghiacciata that's why the Capricorn are there very cold e per questo di Capricorn è molto freddo they are very emotional but they don't they eat inside they don't show it surprisingly they are very romantic they are very slow moving sono molto delicati sometimes they can look very cold and very restrained a volte possono sembrare molto freddi molto chiusi but how to catch and to touch the Capricorn per toccare raggiungere un Capricorno e con le emozioni nothing else can touch him more than emotions nulla di più delle emozioni toccherà un Capricorno perché è il loro punto debole all'interno con il Capricorno non si gioca volete qualcosa io lo chiedete direttamente non amano i giri di parole chiedetegli direttamente cosa volete che cosa non va bene capricorni capricorni from the very young age they are very mature sin dalla giovane età il Capricorno è molto maturo and if you see a child Capricorn always act like an adult e i bambini dei Capricorni agiscono sin dalla tenenità come degli adulti they also Capricorn like a good meal amano anche mangiare bene a good wine un bambino you know like you 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 connettite Capricorno con la sua parte di terra Capricorni they can be very controlling with women men Capricorni possono essere molto controllare e sometimes they can be very macho with women they can be very macho e possono essere molto avere aspetti di machismo sulle donne non lasciare da sole non lasciare fare certe cose ma lo fanno con una posibilità positiva non in un modo negativo vogliono proteggere sempre sul Capricorni potete fare affidamento e quando dicono qualcosa la fanno non importa quanto costa loro quanto costa loro ma la faranno tra tutti i segni di terra è forse quello più facile perché hanno acqua all'interno quindi hanno questa sensibilità e questa sensibilità all'interno ok conclusione per i segni di terra siccome è terra devono prendere più rischi devono lasciare andare il passato devono lasciare andare le paure e iniziare da capo la sicurezza la devono superare a questa barriera della sicurezza e devono capire che è una sicurezza che limita ma non portategli via questa barriera dai piedi subito deve essere fatto un passo alla volta bene quel gruppo alla prossima che si può essere i segni di terra ok chi è l'aria? qual è il segni di aria? ormai 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 il vento, la rigiorezza, libertà, divertimento, non prendono le cose seriamente, hanno difficoltà rimanere impegnati. Chi è Gemini? Gemini è l'aria, ma dall'interno è anche l'aria, quindi aria in aria. Quindi volano alti nel cielo. Non c'è neanche la possibilità di prenderli. Gemini come la Vergine è regolato da Mercurio. E c'è anche una persona saggia nei gemini, che è il patriarca, uno delle sefirot più alte nell'arco della vita. I gemini amano avere molte persone intorno a loro, soprattutto donne se è un uomo. L'esclusività per un gemini non è nel suo dizionario. Non sanno cosa vuol dire esclusività. Non amano e non vogliono esclusività. Non possono essere unici a una persona. Sono come una farfada che va di fiore e amano assaggiare un po' di tutto. Anche dal punto è intellettuale, non solo nelle relazioni. sanno parlare molto bene e sono divertenti perché amano fare tante cose e fare cose al di fuori ma amano anche il pettegolezzo. Il gemino ha una buona qualità ma può essere anche cattiva. non amano far sentire male le persone. Che cosa fanno? Molto spesso dicono delle buone bugie. e questo è il modo che utilizzano anche per riuscire velocemente alla situazione. Nella relazione con un gemello dovete essere preparati. Prima dovete mettere gli scappi scappi perché scapperanno gli scappi sempre. E poi dovete prepararli mentalmente perché sono molto absenti. Sono molto veloci e dovete essere al loro livello. E se non siete a quel livello potete essere sicuri che sarete dimenticati entro la fine della serata. È così che finisce e così che conducono la loro vita. Sono affascinati dal comportamento umano e dalla mente umana. Si annoiano molto velocemente. Quando ho detto gemini, sono persone che erano nate solo nei gemelli. Le persone possono avere la luna nei gemelli e questo influenza il si può avere anche l'ascendente. E possono avere anche la scendetta nei gemelli. E quindi tutti noi hanno parte di questo segno in tutti noi. Si innamorano molto velocemente. E allo stesso modo si disinnamorano. In un'ora si può e innamorare 10 volte 10 volte. Possono anche essere molto controllare gli altri. E' molto difficile. E' molto difficile cercare di spiegare e far capire a un gemello il sentimento. Perché i sentimenti i loro confronti cambiano in ogni secondo. Nella loro mente hanno un certo tipo di comprensione su quello che è l'amore per loro. L'aiuto per un gemello è aiutarlo a connettersi alla sua mente. Non alla sua mente. Se noi ci connettiamo, cerchiamo di connettersi alla mente di un gemello, lo confonderemo ancora di più. Ma dobbiamo prendersi alla loro anima, al livello del seme e allora possiamo iniziare ad andare più in profondità. Ok. Libra. Bilancia. Chi è Libra? Chi è Bilancia? Abbiamo ancora due. Aria dall'esterno e acqua dall'interno. Quindi è un segno molto sensibile. Sono regolati dalla Venera. Sono il segno più facile dei segni. D'aria dove tu la metti. Rabashlad, uno dei grandi kabbalisti, è nato nel segno della Rabbeca. E' Ravashlad che è stato l'insegnante dell'insegnante di Rabbeca. La bilancia cerca sempre armonia. Equilibrio. Pace. Sempre. E' la sua ricerca. Sono perfetti in ogni aspetto. Vogliono sempre far sì che la relazione funzioni. Il loro problema è che si innamorano dell'amore, che amano essere innamorati. Gli dà buone sensazioni, gli fa stare bene. Venere è anche confusione. Il pianeta intorno è nebuloso. A volte con una bilancia potrebbe essere confusi nella relazione. Per aiutare una bilancia a concentrarsi E aiutare a connettersi al 99%. Non all'1%. Non fate decidere. Se volete una decisione veloce e non andate alla razza. Perché la bilancia sta lì per ore a pensare forse sì, forse no. Per il tikkun di una bilancia sì devono decidere. Ma se volete avere una risposta veloce che avete voi, non dategli questo incarico. Perché sta lì per le ore. E devono imparare a porre dei limiti. Le bilanci hanno anche molta paura di stare soli. E' molto importante avere sempre delle persone intorno. Devono consigliarsi, devono avere persone intorno, non parlare. Hanno sempre bisogno di relazioni con le persone. Hanno bisogno di essere in un metro. Good. Aquarius. Chi è Aquarius? That's it? The only representative of Aquarius? Yes. So Aquarius is air. But it's fire inside. So it's fire of air. But Aquarius, as much as they are air, but they are ruled by Saturn. So it's the same as Capricorn. It's rule, law, frame, consistency. Quindi regole, leggi, cornici, poi limiti. Aquarius, they can be amazing friends. Possono essere amici incredibili. They don't have limitations. Non hanno limiti. They can be friends with the person in the street. Possono essere amici di una persona per strada. Or they can be the same way. They can be friends with the king. They can be the same way. Allo stesso modo possono essere amici di una persona per strada. Non hanno differenze. Non hanno limitazioni. They have an excellent networking. Hanno una capacità di inter-relazione eccellente, ma sono terribili a tu per tu. Sanno lavorare in gruppo, ma non sanno gestire una situazione di coppia. È troppo piccolo il lavoro. Pensano sempre troppo grande. Hanno dimenticato una relazione intima. Amano naturalmente la libertà. Hanno bisogno di essere indipendenti. Pensano di non avere bisogno di nulla. Soprattutto nelle relazioni. E pensano, non ho bisogno di nulla del mio compagno. E la paura che hanno in una relazione è di perdere la loro libertà. Quindi l'acquario non è mai connesso al 100% in una relazione. Perché hanno paura di perdere la loro libertà. Quindi, ovviamente, sapete come connettervi a un aquario, lasciandogli lo spazio, lasciandogli la libertà. Non dovete dire, ti voglio qui o bisogno di te, perché gli date troppo. Dovete dargli la libertà, di tagliare la sensazione di avere spazio. E gli acquarii amano aiutare. E quindi chiedete sempre aiuto a un acquario. Ma fate attenti perché gli acquarii hanno un ego molto grande. Perché pensano di sapere tutto e di avere bisogno di nulla. Quindi dovete creare un equilibrio. Ok. Conclusione per il segnidario. Il segnidario deve imparare a condividere con l'equilibrio. A volte è troppo da lato destro, a volte è troppo da lato sinistro. Ok. Il ultimo gruppo. Acqua. Cos'è in segnidario? Cos'è in segnidario? Pisces. Pisces. Cancer. Cancer. Scorpio. Scorpio. Great. So when water family came to your mind, what's the word that came to your mind? Cosa viene in età parlando di acqua? What's the word when you see water sign? Deeper. Deeper, yes. Deeper. и pittere. Power. Changing, yes. Life. Life. Purezza. Pure cinti. È il leader di Tobito. Pure te. Ok. Dirty water. Dirty water. noi pensiamo alla pace tranquillità l'effetto dell'acqua sulle persone a volte è questo i segni d'acqua pensano che l'amore sia la soluzione con l'amore tutto si risolve e sfortunatamente non è così iniziamo dal cancro cancro è acqua dall'esterno e acqua dall'interno quindi è acqua di acqua quindi pensate quanto sono emotivi e sono controllati dalla luna il leone è regolato solo dal sole il cancro è della luna nel mese del cancro abbiamo Giuseppe il saggio abbiamo questo aiuto da questo grande cabalista sono ad alto mantenimento molto alto sono come una macchina costosissima dovete nutrirli sempre non smettono di chiedere e di pretendere possono essere molto bisognosi in ogni aspetto non possono essere soli sono persone molto intuitive sanno ascoltare possono aiutare molto nutrire molto ma spesso possono essere anche molto abusivi con le loro emozioni a volte con le loro emozioni possono essere anche peggiori degli scorpioni hanno dei stati d'animo estremi dei su e giù incredibili un cancro può essere felice al mattino e totalmente depresso alla fine del giorno è questo cambiamento degli stati d'animo e sono noti per questo hanno questi due aspetti non costruiscono la casa come un santuario come un posto di pace ma è un campo di battaglia anche con le loro stesse con le loro emozioni il cancro ha una memoria incredibile e ricordatevi che non dimenticheranno mai anche quello che gli avete detto dieci anni fa ricorderanno sempre quelle parole che gli hanno feriti dieci anni fa e hanno buona memoria per tutto devono imparare ad arrendersi alla luce però non a loro stessi quando sono troppo coinvolti in queste emozioni si sentono senza valore senza valore e quando il cancro si trovi in questa situazione diventa pericoloso è difficile tirarlo fuori da queste situazioni in casi estremi possono diventare depressi quindi dovete sempre supportare un cancro ricordatevi il riguardo della luna e la luna non ha una luce propria la luna si illumina grazie al riflesso della luce del sole quindi le persone del segno del cancro hanno sempre luce e vita dagli altri ma la loro illusione è che loro pensano di non poter costruire la loro luce propria ma invece sì superando queste paure e superando queste paure possono creare la loro luce propria e anche il loro valore che si sentono è riflesso per compagni l'argento e quindi devono imparare a provare il loro valore da loro stessi è un lavoro difficile stare con il cancro perché è sempre un lavoro continuo ma anche sono persone molto grandi è uno dei segni migliori dello zodiaco per il quale fare affari e la loro memoria gli dà un vantaggio incredibile negli affari dovete solo imparare a maneggiare le emozioni del cancro scoppio scoppio no one no no ok scoppio ha acqua dall'esterno e le persone che sono nate in grado di scoppione o hanno un ascendente di scoppione o la lune di scoppione o hanno un aspetto importante dello scoppio nella loro tabella scoppio è fuoco di acqua king david era così scoppio è regolato dal pianeta Marte e da Plutone entrambi sono i pianeti della guerra scoppio sono esclusive in amore molto dominanti molto controllanti molto possessive e liberarsi di uno scorpione buona fortuna è molto difficile come si possa liberare di uno scorpione innamorato a volte hanno un'attività hanno un pensiero ossessivo al sesso sono molto estremi anche nelle loro emozioni è amore o odio non c'è vieti e mezzo per uno scorpione non è ti amo o odio o ti amo o ti odio o sei dentro o sei fuori ma state attenti anche se sono gentili con voi è perché hanno un programma è perché vogliono qualcosa da voi ma naturalmente quando uno scorpione è spirituale sono i migliori perché sono molto potenti e possono conquistare più di qualunque altro segno dallo zodiac non aspettate nulla dallo scorpione perché creerà questa dipendenza da voi più chiederete qualcosa più dipenderete da questo può essere molto attento molto amorevole molto condividere molto ma quando li ha nella sua area non potete uscire o è molto difficile uscire ma quando sono lì come amici sono presenti danno il 100% e si aspettano indietro il 100% quindi pensate 5 volte prima di essere amico o in relazione con uno scorpione con uno scorpione non avete mai ragione con uno scorpione non avete mai ragione avranno sempre l'ultimo scorpione quindi non cercate nemmeno di essere ragione perché la battaglia è persa ancora prima di iniziare è impossibile averla vinta con uno scorpione lasciate perdere avanti sono persone di grande talento e possono essere i migliori amici ma sfortunatamente hanno sempre un programma dietro ok Pisces Pesce last sign of the water l'ultimo segno dell'acqua Jupiter is the ruler of Pisces è governato da Giove chi è Pesce? ok sono più intellettuale che i segni d'acqua è acqua dall'esterno ma è l'aria dall'interno Mosè era nel mese dei pesci e i pesci sono regolati dal 21 possono essere persone molto confuse in molti aspetti hanno delle idee molto belle con il cancro sono molto abili negli affari sono ascoltatori eccellenti potete venire a Pisces e parlare e parlare e parlare e stavano ancora lì puntate da un pesce parlare e parlare e parlare e loro stanno lì fino alla fine e anche quando avrete finito di parlare saranno ancora lì si coinvolgono molto e vedono quello che è il vero scopo il problema dei pesci è che non hanno il potere di stare in piedi da soli non combattono per ciò in cui credono è uno dei segni più spirituali dello Zodiac vedono le cose sentono le cose conoscono la verità e vedono l'obiettivo ma non combattono per quello e quindi capita che attraversino situazioni, opportunità e non combattono per quello non hanno la spiglia dorsale per fare questo non amano il confronto non amano lo scopo, essere in guerra il termine in ebraico per il pesce è dag e se noi aggiungiamo una lettera alla parola dag otteniamo la parola attenzione questo è spiegato nel dottor hanno bisogno di sentire il fuoco che brucia dall'interno sono molto intelligenti e buoni, molto intuitivi e molto spesso in aspetti diversi non combattono per loro stessi in una relazione, per esempio i pesci al posto di confrontarsi non come il toro che sta nella relazione ma i pesce fuggiranno senza spiegazione senza una parola prendono la loro valigia e scopo a chiudere la porta e non li vedete più è così che i pesci sono morti e non si confronteranno in una situazione che semplicemente scompargono dalla superficie del mondo, non li vedete più l'aria che hanno dentro gli dà la tendenza ad avere delle dipendenti il pesce è conosciuto per la sua dipendenza può essere droga, cibo, sesso, qualsiasi tipo di dipendenza perché non combattono per loro stessi sanno che non va bene sanno che devono fermarsi ma è difficile fermarsi ok, i segni d'acqua, un primo gruppo tutti i segni d'acqua sono grandi sono grandi ascoltatori, sono sensibili ma devono essere meno bisognosi ok, domande abbiamo finito i gruppi abbiamo finito i 12 segni avete capito? è molto importante perché è come le persone appaiono a te nella vita quando fai la tabella hai il sole e è il canale che ha scelto l'anima per venire in questo mondo la luna rappresenta le tue emozioni e l'ascendente è come le persone guardano a te se per esempio io sono un germe e riconosce a te il cancro le persone mi guardano come un cancro sì capisci? sì sì non riguarda me ma una mia propria conoscente che è successo il contrario lui toro, lei pesci e lui se n'è andato non si sono separati individuamente allora lui che se n'è andato, io se n'è andato un po' è 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 Il toro è più strato che il toro se ne senta, di solito è il pesce che se ne va. È un po' intenzione, non possiamo decidere per una persona. Se una persona è nata a cavallo da un segno d'alto, può dire cancro, per la giornalità gemelli. C'è l'influenza di entrambi i segni. Nel mio caso sono nato a convenzionare acquario e ascendente bilancia, ma per Capricornio sono Capricornio. A cosa devo credere? Cosa sono? Capricornio e Aquarius. Capricornio e Aquarius. Capricornio e Aquarius. Capricornio e Aquarius. Inoltre, la mia domanda era se basarci sul senso Natale reale o se calcolavo il livello kabbalistico, quale sarebbe? La domanda è se vuoi collegare in un modo più profondo. Sì. Qualcun altro? Mi sembrava di capire che il segno più problematico anche per conquistarlo è forse il leone. Cioè, il livello di... come segno? Il segno più difficile è l'ospensione. Il leone ha l'ego che non chiede aiuto. E ma... come farà con questa roba? Se non vuole aiuto ed è di consigli del verso. Devi far sì che lui possa chiedere... senza interferire nel suo ego. Senza interferire nel suo ego. Quindi è meglio aspettare. Sì. Devi fare passo dopo passo. Sì. Perchè ogni segno è buono con ogni segno. Perchè ogni segno è buono con ogni segno. Perchè ogni segno ha altri aspetti nel chart che noi non vediamo. Perchè nella tabella, nella chart, ogni segno ha degli aspetti di altri segni che noi non vediamo. Per esempio, il peggiore degli esempi potrebbe essere un leone con uno scorpione. Per esempio... Ma per esempio, ma per esempio... Perchè there is a... Perchè ci sono altri pianeti che influono. Quindi non devo andare agli scegni. Non do degli vizioni segno per segno. Può essere completamente... E' questa fine. E' questa fine. come conquistare un pesce? non l'hai detto questo non dire mai cosa deve fare non farlo mai sentire ineprisome se stai con un pesce e tu parli staranno lì e ti ascolteranno sono grandi ascoltatori devi essere prima suo amico parlando gli dei problemi chiedendogli aiuto e piano piano la relazione può andare più devi essere molto delicata con un pesce è come il pesce, non puoi prenderlo chi scivola per prenderlo devi essere paziente chi cosa ne pensa di due persone che sono al stesso segno? quando pensi di due persone in una relazione hanno il stesso segno è buono può essere molto buono può essere molto buono dipende dalla consapevolezza di queste persone non c'è una formula quindi l'astrologia per fare una conclusione ci dà solo un modo per comprendere la vita ma la cabala si dà la possibilità in modo di cambiare il destino per cui è a un livello più alto rispetto all'astrologia può andare sopra quelle che sono le influenze delle stelle ok, thank you very much goodnight